È ICMA 2024, siamo allo Stenvotan e questa è una delle sue nomità per il 2025. Votan Motor è costruito in spagnolo che in realtà è una partnership industriale importante con la Cienciataro per quanto riguarda la fornitura dei suoi veicoli. E qui abbiamo con noi Lucio Gatti, responsabile del prodotto di Votan Motor, che ci illustrerà la nuova REB 401. Una moto che avete già visto, probabilmente in veste di prototipo, su Moto.it un anno, un anno e mezzo fa e che adesso arriva sul mercato. La prima cosa che ti chiedo, Lucio, è già sul mercato? Sì, sì, la moto è già sul mercato. E nelle concessionarie a che prezzo tra l'altro? Perché questa è una delle qualità di Votan che riesce a fare delle motociclette che hanno un certo rapporto qualità, un prezzo molto attento, mettiamola così. Il prezzo è 4.490. Bene, cosa offre la moto? Innanzitutto un motore bicilindrico. Un motore bicilindrico in linea con 43 cavalli. Di potenza e quindi si può guidare con la patente A2, quindi adatta anche ai neopatentati. Iniezione elettronica, ovviamente Euro 5+, ma queste cose non le stiamo a ripetere. Invece la dotazione che mi piace sottolineare è la forcella a sei rovesciati. L'aventrano su Votan 17 troviamo una coppia di dischi con pinze ad attacco radiale che sono una buona consuetudine di Votan. Esatto, è un nostro master. Forse un po' un marchio di fabbrica di Votan Motor. E se saliamo, a parte l'impianto di illuminazione full LED col faro, indicatore di direzione a LED, se saliamo ancora sulla piastra di sterzo c'è lo strumento che abbiamo già visto anche in altre realizzazioni di Votan, che dà molte indicazioni, diverse visualizzazioni, ma soprattutto consente, correggimi se sbaglio, la connettività Bluetooth con il telefono. Con lo smartphone, esatto. C'è l'ABS in questo caso, ma non il Traction Control. Non il Traction Control. Una cosa che poi dovete fare nella prossima versione, dai. Ti ascolto, ti ascolto. Va bene. Bello il forcellone, secondo me, tra in acciaio, ma il forcellone può anche in acciaio, con questo andamento a banana e lo scarico racing. Sarà omologatissimo, però sono ansioso di sentire anche il... Ma questa è una cosa che tu mi devi raccontare poi quando facciamo la prova. Va benissimo. Quando facciamo la prova. Al redditoriano abbiamo anche il mono ammortizzatore, singolo, ma non progressivo. Non progressivo. In questo caso, comunque, qua, ribadiamo un'altra volta che Votan Moto ha cercato di compattare in questa... Come è chiamata? Rollster, Nekernetro... Ma io la lascio a chi ne chiedeva poi l'interesse e chi l'acquista, a dargli un vero nome e cognome. È una moto un po' per tutti. Ha cercato di compattare appunto in questa moto tante qualità, un prezzo. Ha un prezzo accessibile. Ha un prezzo accessibile a tutti, assolutamente. Bella, secondo me, anche la sella. Molto retro. Molto retro in questo caso. Quindi ha del retro, ha dello scratch, cioè ha un po' diverse facce, diciamo, no? Sì, è bella perché ci sono le impunture, è ben rifinita e un tocco in più. Sì, veramente. Bene, non rimane adesso che andarla a provare. Aspettiamo uno di queste moto per... Prendo due caschi? Non è ancora il momento. Ok. Finiamo Icba. Grazie mille Lucio. A te, grazie. Un piacere. Ciao.